Il Centro Il Centro Il Centro Il Centro Il Centro Dove mi sta portando? Non parla molto. Detective Castellanos. Ha una chiave come questa? Le chiavi aprono questi armadietti. Il contenuto è tutto suo. Torni qui ogni volta che vuoi. Noi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, scopri tutto. 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 Davvero notevole. Sì, scopri tutto. 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 È scopri tutto. È scopri tutto. Sì, scopri tutto. Sì, scopri tutto. Sì, scopri tutto. qui. Ora calma. Dottore, un attimo. Sta arrivando qualcuno. Qualcosa qui. Stai calmo. Fa paura. Stai fermo. No. Non c'è niente da temere. Va secco. Resta qui. Qualcosa qui. Stai calmo. È finita. È ancora là fuori. Questo posto è una trappola. Esisterà un posto sicuro. Purtroppo, ne dubito. Non si esce. Non si esce. Dobbiamo andare. Per di qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Le scale sono sparite. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti! Impazziti tutti! Impazziti tutti! Oddio. No. Ruvik. Sei... sei tu. Che cosa sei? No! Non farlo! Ma che... Dottore? Leslie? Cazzo... Soprano. 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 Che diavolo succede? 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 Aseco? Che diavolo succede? 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 Marta, meglio scappare. Grazie a tutti. Ma non molli mai! Grazie a tutti. Oh, ce l'ho fatta. Non ci credo. 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 Non ci credo.